Ciao ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo la scaricata a questa studio di youtube E praticamente oggi volevo fare vedere i commenti delle persone un po' più stupidine Adesso entriamo su questa app e vi faccio vedere come funzionano i commenti delle persone un po' più stupidine Allora entriamo e qui compare così E qua ci sono risoluzioni, inputa, cioè qui tante cose, commenti Poi dei commenti, andiamo qui per vedere i commenti E facciamo commenti pubblicati in attesa di revisione possibile E noi facciamo questo Allora, bene, va bene Qua non c'è niente di strano Beh questa qui C'è una persona che ero contenta che parlava, cioè parlavo io un po' strano E questa persona mi scrive un appello che Larly Coshy Va bene Poi Dizio a casa This is what is my phone Così per questo Io scrivo così Poi Giuseppe a Gonzalo Parli piano Io Va bene Poi Giuseppe a Gonzalo Martina Sì, io e tu sorella Poi questa qui viene Poi questo qui Omo a Scudelli Ciao Ma quanti anni hai? Senza L'acca Sono quello del prank Prank La riuscita si fa con la spagata Siete il primo con un piede Poi con l'altro E poi ho scritto Non guardare se non ti piace Lo guardo da poco E dopo che la faccio male Che ti permette di incattare Poi Cagliuseppe a Gonzalo Io non guardare i miei video Se non ti piace Non sei tenuto a farlo Ma che buona mai Che ti ho fatto Anche tu sei antipatica Perché poi Lei In un video Mi ha scritto Uno Mario Urzi Maccaff Puntini Poi Sembra questo qui Di giacazzo E' strano però Ci rende poco laurea Con picco il test E poi migliora Ok Qua non ce ne andai strano Poi andiamo giù Come un possibile Poi I miei musicali Ciao Per canale Mi sono iscritto Ricambi Però questo mi dice Possibile Spagna Voglio Voglio A questa canzone Party Party Che amo Contro il mio canale Musica Abbonati What's Open music Cosa Poi Vizio Music Music Great video E' sempre possibile Spagna Le good video Poi love E' sempre questo qui Complimenti per il video Mi sono iscritto E devo lasciare un bel mi piace Poi vissi ricambiare Un approccio E' stesso Spettacolo Sto dicendo Che tu perdi Da 6500 iscritti Quindi era così Lavorendo Qua stava Poi vissi E' molto simpatico Anche io Ho un canale Youtube Se vuoi Puoi Puoi farci un giusto Un salto Mi farebbe molto Che Ciao E' proprio Sto cosa Ma Poi Poi ma che cazzo ti rifai con nelvet non li guardare se non sei tenuto affatto non sono di costante oltre tutto sei volgare quando ti esprimi poi sempre lui Martina Ipsanti ma vai a fare la pupu sto scherzando è un prank basta è durato sei minuti e comunque raga se una cosa io non ho dato youtube però non mi spunta l'aggiornamento perchè 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 mi spunta l'aggiornamento vabbè raga ciao raga mi hanno un bacione ciao 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 ciao